Ecco siamo all'interno della stazione metro di Voltaire, questo è un ingresso e qui c'è solo semplicemente questa macchinetta dove si può fare solo il ricarico della navigo ecco qui c'è scritta tutte le varie informazioni sulla Voltaire e ora vediamo come si deve operare per ricaricare la navigo Allora questa è la macchina, ricaricare la navigo ecco la prima operazione da fare è mettere la lingua, quindi italiano una volta scelta la lingua si deposita la navigo su questa zona che vediamo qui una volta depositata viene fuori il tipo di biglietto che uno vuole comprare e qui vediamo che io adesso ho due biglietti che mi servono per arrivare all'aeroporto quindi prendere poi la metropolitana e poi il tram altrimenti si va su biglietti verso gli aeroporti o ticket t più come nel mio caso ecco qui si possono acquistare dieci biglietti o si può fare una ricarica semplice da un biglietto per volta quindi ecco questa è la possibilità che viene offerta poi una volta cliccato si fa l'acquisto chiaramente ecco quindi questa è la spiegazione un po' di come funziona la ricarica della navigo ecco questa una volta ricaricata poi si entra da questi tornelli in quanto questa stazione come vediamo c'è solo questa macchinetta quindi non c'è neanche la possibilità di comprare la navigo e con questo video tutorial chiudiamo